Questa faccia non la capisci di nuovo, non solo che non la capisci, non la comprendo. C'erano i casino che c'erano. A me è anche un po', certo mi hai ammazzato i miei fratelli. Però non capisco certe situazioni. E il cano dice queste cose. C'è chi ha fatto queste cose, per quale interessa la faccia? Ma l'interesse non è l'interesse di processi. No, è l'interesse di soldi.